buongiorno a tutti benvenuti o bentornati sul mio canale oggi è venerdì 20 gennaio 2023 sono trascorso ormai due settimane più o meno da quando siamo arrivati qui a banyul sul mer che è il paesino in cui sta lavorando claudia attualmente qui la vita si svolge normalmente anche molto lentamente stiamo vivendo in van tranquillamente qui in periferia del paese siamo in uno spot di fronte al mare infatti tra poco ve lo farò vedere nessuna attività particolare più che altro sto approfittando qualche giorno per fare degli allenamenti in bici infatti quelli ci terrò a filmarli nei prossimi giorni perché ci sono degli spottini molto interessanti sperando che che ciò non possa annoiarvi fatemelo sapere nei commenti se vi può interessare o meno oggi iniziamo la giornata con un bel problema ai freni ovvero ieri approfittato perché era una bellissima giornata di sole senza vento apro due parentesi per dire che qui il vento è una costante tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni vento è molto forte anche è tipico di questa zona lo sapevamo già dalla scorsa volta e nulla quindi approfittato ieri che non c'era vento per fare alcuni lavori a giorni anzi più che fare alcuni lavori dare un'occhiata generale sotto al mezzo per vedere se tutto ero cave verificare ci fossero perdite o insomma altre cose varie è sempre bene dare un'occhiata ogni tanto ho notato una leggera perdita di olio dalla ruota posteriore sinistra quindi sta perdendo la ruota posteriore sinistra infatti mi è capitato l'ultima volta che siamo stati appunto sui pirenei montagna ha fatto parecchio freddo quando ho messo in moto il mezzo la mattina vado lì per muoverlo e c'era una ruota bloccata la ruota posteriore rimasta bloccata sicuramente a causa del freddo non so se si siano bloccati i pistoncini delle ganache oppure se si è formato del ghiaccio che ha tenuto le ganache presate sul tamuro questo non lo so però non so se questa perdita poi risale a quel giorno cioè magari iniziato a perdere da quel giorno oppure no questo non lo posso sapere perché me ne sono accorto solo ieri a distanza di due settimane fatto sta che dato che c'era una perdita di olio vado a controllare la vaschetta dell'olio è noto che la vaschetta dell'olio era completamente vuota sul fondo c'erano solo 3 mm di olio forse quindi quindi mi sono allarmato parecchio sono andato ieri sera a cercare del dell'olio per freni siccome qua non esistono auto ricambi in questo paesino nonostante sia un paesino comunque abbastanza grandetto però non esistono auto ricambi ma avevo visto qualche giorno fa che vendevano olio motore qui al carrefour al supermercato quindi ho dato per scontato che ci fosse anche l'olio dei freni ieri sera sono andato e non l'ho trovato quindi niente olio di freni sono andato alla ferramenta neanche il ferramenta vende olio di freni nessuno aveva olio di freni stamattina sono andato in un'officina meccanica l'unica che c'è in questo paese nel raggio di un bel po di chilometri poi è fortunatamente ho trovato l'olio per i freni solo che mi hanno dato quest'olio che è un dot 5.1 mentre l'impianto di giorni ha bisogno di un dot 4 quindi non sapendo non conoscendo bene come funzionano queste cose qua perché non sono un esperto di oli di freni sono un pochino informato per capire se il 5.1 fosse compatibile con il dot 4 a quanto pare compatibile infatti anche quelli dell'officina avevano detto però non mi fido mai più di tanto di certi meccanici a volte ti dicono e si è compatibile però magari ci perdi l'impianto da dopo un mese perché scopri che quell'olio non va bene oppure vedono che è un mezzo vecchio e ti dicono e se metteci quello che se ne frega capito tanto mezzo vecchio non vale un cazzo insomma poi che paga le conseguenze sono io quindi mi sono voluto informare bene e a quanto pare è vero quel 5.1 sembra essere compatibile col dot 4 la differenza è che il 5.1 resiste meglio le alte temperature quindi questo potrebbe essere un vantaggio rispetto al 4 l'unico fattore negativo è che il 5.1 assorbe di più l'umidità rispetto al dot 4 e va cambiato più frequentemente però questo non è un problema più che altro volevo assicurarmi che si potessero mischiare il 5.1 col 4 perché il 4 è ancora presente nell'impianto io quello che devo andare a fare è aggiungere il 5.1 nella vaschetta quindi i due oli poi andranno a mischiarsi questa cosa non è da fare quando si ha a che fare col dot 5 che il 5 è completamente diverso quando si va a mettere quindi il dot 5 bisogna vuotare completamente l'impianto ripulirlo e mettere solo il 5 per fortuna questo non è da fare col 5.1 quindi mi ritengo fortunato sotto questo punto di vista quindi adesso quello che andrò a fare è mettere il 5.1 raboccare la vaschetta e tenerla sotto controllo assolutamente perché con le strade che ci sono qui non c'è da fidarsi manco per il cazzo quindi sperando che non sia una perdita importante però te la sapere non sapere come ne controllarlo spesso tanto la vaschetta è posizionata sotto il sedile anteriore quindi è facilmente visionabile il livello quindi va controllato molto spesso dato che faremo delle strade molto impervie a partire anche da stasera perché perché allora oggi è 20 gennaio 2023 e ancora fino ad oggi non ha fatto giornate puramente invernali infatti oggi ci siamo svegliati con i monti imbiancati qui di fronte al mare stiamo parlando di quote più o meno di 300 400 metri sul livello del mare quindi tanta roba e quindi questo fa ben pensare per quanto riguarda le montagne più alte proprio addentrandosi nei pirenei quindi stasera l'intenzione è quella di metterci in viaggio dato che oggi è venerdì abbiamo il weekend libero claudio al weekend libero ci metteremo in viaggio per raggiungere montagne ben più alte e sperare di trovare un bel po più di neve come si deve perché ci tengo a dirlo non è normale che in questo periodo ancora non si fosse presentata la neve sui pirenei cioè ovvero non se ne presentata quanta se ne sarebbe dovuta presentare era molto poca quella che abbiamo trovato le scorse settimane e questo non è per niente normale il cambiamento climatico non esiste cheat e quindi quindi niente il programma di oggi anzi il programma di questo weekend è questo quindi ora teniamo sotto controllo i freni stasera ci mettiamo in marcia per sperare di trovare un po di neve ora vi faccio vedere un po il posto qua infatti sto fumando dentro il van perché fuori c'è un vento bestiale e ora ve ne renderete conto questo è lo spot in cui stiamo vivendo queste settimane ed è lo spot in cui abbiamo vissuto per quasi tre mesi la scorsa primavera siamo a pochi chilometri dal paese e comunque ci tengo a dire che sono molto soddisfatto del sistema che ho realizzato per inclinare il pannello solare infatti sta rendendo veramente tanto a differenza di prima che quando stava a rizzontare il pannello rendeva molto molto poco nonostante ci fosse il sole e ora riesco a sfruttare al cento per cento i momenti in cui è presente il sole che poi è un vento freddissimo quello che c'è veramente freddo e pungente nonostante Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.